Gabriele Robert Marincat comparirà davanti alla Corte di Assise di Como per essere giudicato per la morte e la violenza e i danni della piccola Sharon, la bambina di 18 mesi che l'11 gennaio scorso gli era stata affidata dalla sua compagna e mamma della piccola. L'appuntamento con l'Aula è fissato per ottobre e la Corte ha già messo in calendario almeno altre due date in novembre. Le indagini sono state coordinate e chiuse nelle scorse settimane dal pubblico ministero Antonia Pavan. Marincat, interrogato per più volte in fase di indagine davanti al PM, aveva confessato di aver violentato e ucciso la bambina. Non riesco a spiegarmi perché l'ho fatto, avrebbe ripetuto, mentre ripercorreva quanto accaduto nell'appartamento di Cabiate in cui era andato a vivere con la compagna e la bimba. Il verbale del racconto si era aggiunto al referto dell'autopsia effettuata sul corpo della piccola Sharon e agli elementi raccolti dai carabinieri della compagnia di Cantù e sfociati nell'arresto del 25enne rumeno. La Procura ha così proceduto con la richiesta di giudizio immediato che ha portato a fissare l'udienza in Corte d'Assise a Como per ottobre.